buongiorno a tutti una domenica volevo fare delle riflessioni sulla normalità a quest'oggi la normalità è un concetto statistico in qualche modo è anche difficile da definire perché varia in base al contesto ci sono situazioni per alcune sono normali per altre sono particolari però la normalità è qualcosa che ciascuno di noi vive sulla sua pelle che agisce e ha una forza spesso una violenza quando ci troviamo dalla parte dei normali dalla parte diciamo così della zona mediana della curva gossiana quando ci troviamo in tanti a condividere le stesse idee gli stessi comportamenti gli stessi vissuti e sentiti ci sentiamo a casa ci sentiamo protetti in qualche modo ci sentiamo sorretti quando invece siamo alle curve estreme della curva sia per eccesso o per difetto la situazione si fa un po più complicata pensiamo per difetto a chi è malato a chi ha dei della disabilità oppure pensiamo agli emarginati pensiamo ai dissidenti pensiamo anche ai delinquenti tutto sommato io credo che nessuno si diverta delinquere e poi pensiamo a chi invece magari è originale creativo atipico a chi magari ha uno sguardo un po più ampio pensiamo a chi ha fatto la storia noi abbiamo nella nostra tradizione maestro gesù cristo oppure pensiamo alla caverna di platone essere dalla parte elevata diciamo così della curva gossiana significa accorgersi di qualche cosa che altri non si accorgono o magari significa anche avere uno sguardo diverso e allora ovviamente cominciano i guai la tentazione è quella di combattere la tentazione è quella di rispondere alle immaginazione rispondere allo scherno alle offese o magari è quella di cercare di affermare la propria posizione che ovviamente essendo una minoranza batte contro il muro del mainstream batte contro il muro della maggioranza e quindi ti fa sentire in qualche modo escluso oppure incompreso oppure eletto oppure comunque ti fa sentire fuori posto in questa situazione in questo mondo in questo contesto particolare io credo che ci sia una sola soluzione per chi si sente atipico per chi si sente meno normale soprattutto in un momento come questo e non cadere nella tentazione non cadere nella tentazione del giudizio non cadere nella tentazione del senso di superiorità o di inferiorità non cadere nella tentazione dei complottismi vari la parola è una e si chiama compassione dovremmo tutti andare un po' a lezione dai buddhisti io credo io credo che comprendere la vera natura della compassione sia la chiave perché nessuno ci può dire se la nostra atipicità è giusto o sbagliata se siamo nel giusto o nello sbagliato se abbiamo ragione noi o loro nessuno te lo può dire ma hai una misura dentro di te che è il grado di compassione che riesce ad avere il grado di compassione per gli amici che ti scherniscono per il mainstream che ti esclude o ti giudica per quelli vicino a te che ti guardano in modo strano ti emarginano in qualche modo per quelli che ti fanno sentire in colpa la compassione non puoi decidere di averla la compassione ma puoi stare attento a cosa significa puoi comprendere la vera natura della compassione che è vedere l'anima vedere da dove viene il comportamento che le persone hanno nei tuoi confronti vedere anche da dove viene in questo caso questo comportamento così generalizzato questo pensiero unico che aderisce a un modello da dove viene vedere l'automalipolazione che le persone fanno su di sé vedere la mancanza di consapevolezza che c'è l'automalipolazione delle persone e soprattutto vedere la loro anima guarda oltre i comportamenti gli sguardi guarda oltre il pensiero della normalità e vedrai l'anima delle persone ciascuno di noi è in e cerca onestamente io credo quanto meno quanto può di dare la risposta giusta così come stai facendo tu e allora che senso ha combattere contrastare giudicare compassione sguardo benevolo che vede la persona il piccolo uomo la piccola donna dentro l'altro che tenta in qualche modo di trovare la sua via per stare al mondo e per orientarsi nelle situazioni in questo caso situazioni di emergenza ognuno al suo posto cerca di fare quello che può con il grado di consapevolezza che ha quindi il segreto è la compassione non tanto per riuscire a cavartela ma come metro del tuo grado di risveglio di consapevolezza di presenza di fiducia in te stesso e in quello che senti compassione non è pietà compassione è vedere con occhi benevoli riconoscere il diritto dell'altro di essere com'è riconoscere la sua sofferenza la sua piccolezza il suo tentativo di cavarsela come può con le sue proiezioni le sue identificazioni le sue credenze le sue proiezioni su di te le sue paure quando vedi tutto questo non puoi che sorridere e stare al tuo posto a casa non puoi che sorridere